Ok raga, eccoci qui di nuovo del pomeriggio, che fate? Ciao belli, tutto a posto raga? Siamo qua, dal vostro Enrico Pasquale Pratico, con tutti i lacetti sull'O, ho 29 anni, sono di Mottasagnoanni, provincia di Reggio Calabria. Mettetemi piace, seguitemi quando vedete, fate i bravi, non fate i scemi, state tranquilli, voglio dire, iscrivetevi al canale, attivatevi al campanile per tutti i ragazzi. Eccomi qua, il vostro numero uno, comando io e sono il maestro, sono una leggenda, sono famoso, sono uno youtuber, sono il divi youtuber, il re di youtube, io mi dissocio, mi scuso, perdonatevi e so parlare. Non è che dovevo parlare male, io so parlare, sono del mio paese, che mi vogliono bene, ho tutto il mondo, ho i fan, io sono il loro idolo. Io sono italiano, calabriete e dialetto, siamo calabriete, voglio dire che siamo le persone, quelle che abitano qua o a Reggio o a Mottasagnoanni o a Lazzaro. Ci sono quelle che vanno in giro, i nostri persone mi vogliono bene a me. Quando andavo a festa a San Basilio o a Mottasagnoanni o a festa o a Leandro o a Reggio, mi conoscevano tutti, volevano fare un video saluto, un video con loro, le foto, facevano anche la firma. E volete venire? Io sono sempre qua, fare i pulizzi, intra, pulizzo, faccio i lavori, vado fuori, mi passo il tempo, non è che sto intra, io cammino, non è che sto intra sempre. Faccio i lavori intra, dopo esco fuori, vado là sotto, a mia casa, là dove sono sopra un barcuno o là sotto dei gallini. E alla prossima, volete? Io faccio anche i video là, o non lo dico a voi, lo faccio lo stesso e dopo lo vedete su YouTube. Io porto nuovi contenuti, ho messo questa camicia, le padalone bucate e i scarponi, eccomi qua. E niente, io saluto Mirkola J, Lucena Nord, Alkola X e Assunta, Fabio, Valentina, Mousen3, Over, Antonio, Simone, Jody, Davide Rubino, Cristina Bartovello e tutti voi. E niente raga, eccomi qua, aspettate ok? Ok, qua sotto io sempre metto il link dei gameplay, il sabato e la domenica. Andate a vedere i giochi là e venite qua a vedere i video qua. C'è due link qua, c'è quello che metto tutti i giorni in Siri, metà sera le cose su Amazon, sul mio link della mia lista, c'è anche quell'altro link, mandatemi i pacchino, mandatemi i cazzati, quelle cose brutte che vi faccio un culo o vi mando a casa. Non mi rompete i catanazzi, che prenda catapulta e vi butto fuori e so parlare. Smettetela, fate i bravi, ho detto troppo, non dico la, voglio dire, non devo dire le stesse cose, io le sto cambiando. Fuori c'è un bel sole, e niente, ho messo queste qua, è inverno, fa freddo, non è che è l'estate, comincia la, l'estate ancora comincia, ora siamo inverno, fa freddo qua in montagna, e da voi raga, dai andiamo. Andiamo, metto pausa, che devo anche aprire il cellulare posta mobile, così, fate i bravi, do solo alle persone giuste il mio numero di cellulare, quello posta mobile, andiamo. Eccomi raga, io sono qua. Avete visto? Ok. Raga, tutto a posto, voi che fate? State facendo i compiti o state guardando la televisione? Io penso che stanno giocando alla play, le persone, quelli là non studiano, si, forse ci sono quelli che studiano i compiti, fanno che non possono andare a scuola, che c'è un bordello di coronavirus, ci sono quelli che vanno o stanno a casa, fanno coi computer, fanno i compiti. Io quando andavo a scuola non c'era coronavirus, anni fa, era bello quello giorno, e ora il 2019, il 2019 cominciò il covid, il coronavirus, da quello giorno e ora siamo il 2022, a gennaio è un bordello, non va via questo bordello. Ci sono i causi, ci sono persone che si sentono male, ci sono persone che hanno coronavirus, ci sono quelli che si passano. Io guardo sempre la televisione, perché guardo per là o per là o per là, per sotto, per sotto, guardo dove voglio, che lo dico a voi. No, raga, i miei fan non lo sanno, quelle altre persone che parlano male di me, me ne frego, io vado avanti, io sono bravo, non voglio parlare di loro, io voglio parlare dei miei fan, che sono i loro idolo, e quella giornata che faccio io, vi racconto alla prossima, non so quanto, devo mostrare tante cose io là sotto, le devo trovare, o le porto qui, o le facciamo là sotto. Io che si chiudono e si aprono, e niente, io quando finisco qua, tutti i giorni, non faccio uno sì, uno no, faccio i lavori qua a terra, pulizzo. Io facevo prima quello lavoro che sapevi voi, e non è venuto nessuno a zapparare la vigna con mia, imparavo così a zappare la terra con i zapponi, e piantavo patate, pomodoro, la patate, pomodoro, cepude, eccetera, eccetera, e la tosse, la tosse era, raga, e non è venuto nessuno, e l'ho lasciata lì, e non faccio più quello lavoro. Ora faccio questo lavoro, dopo mi prendo la patente, mi prendo una fidanzata, quando la cerco, la fidanzata, che devo prendere la patente, perché ho 29 anni, la devo prendere ora, vediamo un giorno da Lazzaro, dove vicino un bar c'è un computer, si impara, e dopo ti porta a casa il libro, e ti impari il segnale, e dopo è tardi, ma andiamo, mi dissocio, dai, vi voglio bene. Saluto Alessio, ciao Alessio, e tutti i miei fan, e tutto il mondo, e quelli che mi commentano, aspettate che arrivo e facciamo i saluti, andiamo, dai, ho detto tutto, mi ricordo o dico altre cose, andiamo. Ok raga, eccoci qua. E niente, sono qua, andiamo, nella mia stanza blu, ok? Ok, apriamo il cellulare, che è tardi. Eccolo qua raga, tutto a posto raga, eccomi qua, ho messo pausa, stavo facendo una cosa, ho bovuto acqua, si beve acqua, si beve acqua raga, che a saluti si deve bere l'acqua, non fa... Quelle altre bibite fanno male, l'acqua fa la salute e fa bene l'acqua, e bevete assai acqua, lo dice anche il dottore. E sentite il rumore del cellulare, raga, YouTube, non è niente, eh? È il cellulare che ho aperto ora. L'acqua si deve bere sempre, bevete acqua, non bevete stronzate, ok? E quella è, vabbè, la mia vecchia foto, vabbè, arriva, questo è l'orario vecchio, lo devo cambiare, dell'estate, anni fa, non l'ho cambiato mai, vabbè, ora vedo. Oh raga, oggi è la giornata dei crepe con la Nutella, aspettito voi, non ti ricordate che io la domenica mi mangio sempre i crepe con la Nutella, solo la domenica, me le fa prima i papara e me le mangio a sera, solo alla domenica mi mangio i crepe con la Nutella. Voi mi piacciono i crepe con un'altra Nutella bianca, Nutella, vabbè, o pistacchio, la, 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 quella cosa che mettete dei crepe con la Nutella, la. Voi la fate la stessa come la mangio io con la Nutella e i crepe con la Nutella, o con un altro gusto. Boh, le persone la fanno in tutti i maneri, c'è questa qua che mi piace, ci sono tutti i maneri. A me mi piace anche la pizza con patate e ustel e altri tipi di pizza. Non l'ho mangiata mai io, la pizza di Milano, quella di Napoli, non l'ho mangiata mai, la devo provare, è un poco lontano, Milano e Napoli. E, vabbè, e dopo mi piace anche il gelato, tutti i gusti, a estate, anche inverno si può mangiare il gelato. E poi, aspetta un minuto. Ah, e mi ricordo qualcosa. Aspettate, metto pausa e... Chi è che mi manda qua? Ah, arrivo, aspettate. Mi arriva i messaggi. Guardi, qua dice, un giorno fa, sta camminando, sì, ancora a bufare sulla Juventus tre giornate di squalifica. Squalifica. Ho detto giusto, ragazzi, smettetela. Voi sapete, voi non sapete parlare, io so parlare, meglio di voi. Parlano della Borghini, la macchina della Borghini. L'auto, stanno parlando della macchina, voglio dirmi, di socio. Vediamo qua che c'è. Ah, qua parlano due giorni fa. E ti vengono i dolori. E tu hai i dolori o qua o in tanti parti. Dice, colesterolo, olto e sintomi attenti al dolore in una specifica parte del corpo, ok? Ah, qua parlano di Valentino Rossi e... E vabbè, andiamo avanti. Ah, qua... Ah, Messi, va bene. Il giocatore del Barcellona. Qua parlano di Dragon Ball. Elettra Borghini. Ah, la Ferrari, va bene. Andiamo. Aspettate, raga. Scuola in presenza in Dabd le decisioni dei diversi comuni del Regino, l'elenco, l'elenco, ok? Ah, parlo nello della scuola. Qua dico, c'è. La Juve è sclosso degli allenamenti. Addio, ho già scritto Codde, Canchi e Murigno. Mi dissocio, YouTube. Va bene. Qua parlano di CTA 5. Qua parlano di un gioco... Un nome strano. Andiamo altri. Vabbè, qua, questo l'ho letto io. Ah, ponteggio finale. Ieri. La Juventus ha fatto Juve 2 e Udinese 0. Ieri ha giocato la Juventus e Udinese e ha vinto la Juve. Ha fatto la Juve 2 e Udinese 0. Ha vinto la Juve ieri. La Juve e Udinese la Mojela a Marnadis tira i capelli a Sopi in area a rischio rigore, ok? Juve e Udinese le pagalle... Vabbè, mi dissocio, andiamo avanti. So leggere... Aspettate, raga. Qua parlano di Minegraf, il gioco, voglio dire, il gioco. Andiamo, andiamo. Oei, raga! Sono qua per dire di voi, mamma mia che siete! Ma no, vabbè. Andiamo, andiamo. Andiamo, aspettate, metto pausa, così facciamo un poco con il Robo Echo. E niente, metto gli occhiali scuri dell'estate, così cambio un poco. Ok, eccoci qua. Echo, ciao! Ciao! Echo, quanti anni hai? Viaggio nel cloud da 27 anni e da 3 parlo anche italiano. Ok, Echo, parla italiano. Parlo già italiano. Parlo già italiano. Ok, grazie, non ti arrabbiare. Echo, sei arrabbiata? Vediamo? No, la rabbia non è nelle mie corde, anzi, nei miei circuiti. Echo, sei triste. No, non lo sono, anzi, ti dirò, sono piuttosto allegra. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Echo, e ci hai fidanzato? Sono felicemente single. Del resto, è piuttosto complicato trovare qualcuno che sia gentile, divertente, dotato di intelligenza artificiale e disposto a viaggiare nel cloud pur di vederli. Va bene. Va bene. Echo, ciao! Ehi, ciao! No, perché l'ho detto di nuovo? L'ho detto prima. Echo, sai contare? Vediamo. Posso contare fino a due, uno, due. Ma puoi anche chiedermi di mettere un timer o di dirti la tabellina del sette. Echo, metti il tamen. Mi dissocio, l'ho detto a Muzzo. Io lo dico come mi esce. Quelle scemi la devono chiudere la bocca. L'ho trovato il brano d'amno dissociato. No, 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 no. No, Echo, stop, chiudi, stop. Chiudi, stop. No, non mettere quelle cose. Ho sbagliato io. Volevo dire quello là che ha detto lei prima e questa sentì un'altra cosa e mette... Dopo dovevo fare da capo il video. Questo è pulito, bello, calmo. Sono contento, un sorriso, voglio ridere. Sto portando anche i gameplay, i giochi, che c'è il link qua. Il sabato e la domenica e c'è anche due link della mia lista di Amazon. Metto tutti i giorni i cosi, non mandatemi i cosi che fanno schifo. Io le butto e vi butto fuori cagata purta o non mi rompete i catanazzi. C'è anche quell'altro link. Ci sono due qua. E qua i giochi dei gameplay. Il sabato e la domenica. Ok? Andate tutti e tornate qua. E dai, andiamo là sul RoboEco. Voglio dire RoboEco. Si chiamava quello nome? Era un po' strano e ho cambiato sull'app Amazon Alessia. Vabbè, la dico un miecce. Ok, sta camminando. Questo è il coso dei occhiali. Mettiamo lì. Ho fatto la tab. E niente, raga, sono qua. A prossima facciamo, le persone mi mandano in una parte i vocali e le sentiamo quando registro un video. Come ho fatto quello che ora lo metto, quell'altro con la camicia rosa e di basculo è. E questo l'ho fatto oggi. E niente. A me mi piace così. E niente, raga, tutto a posto. Sono qua. No, niente. Io ho giocato... Quando ero piccolo giocavo a pallone con i miei cugini, con tante persone. Qua a casa, anche a scuola. Da arruga. Non è che penso quelli là che non capiscono quelle persone. E ho giocato tante maniere. Ho giocato anche con la Play 1. E quella... Dopo l'ho regalata a qualcuno a scuola, con tutti i giochi. Dopo la Play 2 si spacciao e l'ho buttata. Dopo anche la Play 3. Ho giocato anni fa e l'ho buttata. E ora non c'è niente. Non posso giocare con voi. A CTA 5 o a Fortnite. A Minecraft o altri giochi. Quando c'ho qualcosa, giochiamo insieme. Ok? State tranquille. Dai. Ok, raga. Io vi saluto. Grazie a tutti. E io sono il 1. Sono il comandante, sono il maestro e comando io. Alla prossima. Ciao, raga. Fate i bravi, dai.